L'ottimo servizio per Boni che si presenta in area, il controllo di Boni e c'è il vantaggio rosso-nero al sesto minuto, Milan subito avanti, scatto a bruciare De Santis, Ivan resiste anche alla carica, il pallonetto e c'è il 2-0 al dodicesimo. Grande falcate per ripartire in contropiede, lancio per Ivan, posizione regolare, Ivan si presenta tu per tu con Fonzo, l'attaccante maglia numero 9, lo salta il portiere in dribbling e deposita a porta sguarnita per il 3-0. Pallone lungo, potrebbe diventare buono per Ivan che va a dar fastidio a Caporossi, lo brucia in velocità, si presenta in area di rigore e piazza la tripletta Ivan, diciannovesimo 4-0.